ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi voglio condividere con voi un frame allora ragazzi ecco l'immagine che volevo condividere con voi questa è un frame di un video postato da artim sul loro canale ufficiale perché sono andati a far visita al reparto di simcube di granity device sono stati invitati perché presenteranno appunto dei prodotti in anteprima in italia quindi ragazzi rimaniamo collegati con direct drive italia per scoprire le nuove uscite che ci saranno ovviamente quella famosa valigetta vi ricordo di 12 kg che per me sta creando parecchio hype sono in attesa di vedere quali saranno le novità quindi il 10 ottobre vedremo c'è questa immagine in particolare che mi ha colpito perché proprio il ragazzo che è presente dice ragazzi qua è la zona diciamo di riposo eccetera con le postazioni ragazzi tutto green e poi c'è una postazione dove c'è una ci sono dei prodotti che sono coperti perché ovviamente sono segritissime e che verranno svelati più in là e vorrei analizzare con voi questa questa postazione cina perché ci sono due cose anzi tre cose che mi hanno intrigato in modo particolare e quindi è questa parte qui con questa questo piede nero piatto con questa che sembra quasi un braccio che potrebbe diciamo forse come ipotizzava qualcuno nascondere un qualcosa di motion è un'ipotesi molto remota perché non si capisce nulla dal almeno che non sia diametralmente opposto l'altro piede non si non si nota nulla da questa parte qua e in ogni caso ci sono i piedini qui quelli classici quindi non so come potrebbe funzionare però questa parte qui è molto intrigante con questo piede quindi questo specie di braccio o forse è semplicemente la parte del hanno messo qualcosa per tenere la coperta e magari mi sto immaginando qualcosa non lo so e e poi c'è questo volante d'accordo questa volante e si vede proprio il la prolunga collegata forse a qualcosa e dico forse perché ci sono dei cavi però diciamo che la piastra di aggancio è praticamente uguale alla mia e se ci fosse una base o comunque lunga si dovrebbe vedere anche l'ombra dietro non lo so è un po particolare bizzarra questa inquadratura non si riesce a capire però in ogni caso c'è qualcosa lì che non ci è dato sapere se è una base nuova che potrebbe essere la sorella maggiore dei sim cube 2 chissà non lo so la speranza potrebbe essere quella per molti no perché chi ha comprato il sim cube 2 da poco dice come ho comprato adesso ma esce il 3 non si sa e ecco perché l'hype è molto alto ma è anche vero che hanno avuto la cura di coprire tutto in modo tale che uno possa immaginare su un volante nuovo da 12 kg non lo so però forse una nuova base forse un sistema motion forse un sistema di active pedal nuovo sorella minore di quello che è già esistente sorella maggiore perché è anche vero che a livello di marketing e quello potete verificarlo per chi è iscritta alla newsletter hanno spinto moltissimo per l'active pedal cioè granity device oggi propone mi pare che ancora attiva questa offerta la possibilità di inviarvi la pedaliera testarla per 30 giorni e se non siete soddisfatti di rimandargliela quindi hanno veramente spinto tantissimo questo prodotto quindi che non ci sia una nuova versione più avanzata o forse una versione active pedal pro come hanno fatto più non lo so non so cosa immaginare però è anche vero che hanno preso cura di mettere un altro un'altra coperta amaranto qui sono contento perché comunque a livello di cable management sono come me ragazzi cioè guarda sto casino però in ogni caso vedete qui questa parte hanno diciamo preso la di mettere di mettere questa parte sul montante basso della postazione in modo tale da coprire questa parte qua c'è un motivo quindi o c'è un motore un sistema particolare non lo so in ogni caso è molto intrigante non si riesce a capire veramente dietro se c'è una base montata devo dire la verità non riesco a capire e ho guardato e riguardato il video per vedere qualche angolazione però al momento in cui dovevano inquadrare da questa da questa parte qua ovviamente hanno tagliato perché non possono far vedere però niente volevo ragionare con voi sulla possibilità di identificare quello che potrebbe essere ovviamente nascosto bene fatto apposto in questo modo quindi ragazzi niente volevo condividere questo momento di hype pazzesco per quanto mi riguarda perché simcube è una marca che mi piace veramente tanto e mi piace tantissimo l'innovazione che hanno anche se hanno dei costi che per comprare qualcosa di vendere un rene però sono veramente un passo avanti come come tantissime marche come asetec ad esempio che cercano di tenere il passo e quindi è molto interessante vedere quali sono le novità in questo campo che ci possono proporre quindi se anche voi ragazzi non vedete l'ora di vedere quali saranno le novità che simcube ci proporrà in questi giorni lasciate un pollice in su non esitate a lasciare un commento qui sotto ditemi che cosa ne pensate cosa immaginate cosa vi piacerebbe vedere scoprire con questi nuovi prodotti e come al solito iscrivetevi al canale tanto è gratuito e noi ci vediamo prestissimo da la brisa è tutto un abbraccio ciao